Musica Signori e signori, tutto pronto per cominciare? Buonasera a tutti, benvenuti a Noi D'Omba! E' il primo sabato notte del lungo inverno 2011-2012 Vi vado a presentare quello che sarà questa stagione invernale speciale Resident DJ, Gioia De Mazza, NDJ Francesco Campetella Le voci di B-Vent, Augusto 900 Grandi ospiti questa stagione Franky P, Ciuffo, Stefano Gionmarelli Le voci di Faber, Ruben E soprattutto, già settimana prossima, il grande elenco ospite speciale Mister Tommy B Si saluta il sponsor Le collaborazioni Luca Paolo Rossi Le salta Peter Pan di Rave Rosa Riccione Radio Studio Più, tutta la parte di Rai Internazionale Maxi Cano e Cines Cilita Nova Marche Pink Pan, Gioielli Oscar Leone e Sartoria Signori, tutto pronto per cominciare? Ci siamo Benvenuti a Rinova, il mio solo Francesco Gioia De Mazza Andino Romano Pintue Grazie No Grazie a tutti